Ciao ragazzi, pillola 28, in realtà quello che volevo farvi vedere era l'oggetto di per sé più che la pillola, perché guardiamo rapidamente e ripassiamo un po' quelle che sono le viste di sezione e l'invisibilità e la trasparenza d'invento per lavorare su assemi complessi, che forse ve l'avevo descritta ma sempre su parti molto semplici, assemi molto semplici, adesso volevo far vedere un attimo come funziona effettivamente per gli assemi complicati, ma quello per cui faccio veramente questa lezione, questa pillola, è farvi vedere questo oggetto qua, un oggetto totalmente fatto in inventor con elementi della lego, voi direte roba da matti, perché incredibilmente ogni singolo pezzo che io trovo qua dentro, lo posso editare, facciamo il find in the browser, eccolo qua, mi lo trova, lo vedete questo codice qua, 6636, beh voi potreste ordinare questo pezzo della lego, questo singolo pezzo della lego di un colore diverso e farvi anche il vostro modellino di colori diversi, partendo proprio dalla distinta dei materiali che trovate all'interno del browser, beh voi direte è una cosa fantastica poter scaricare queste robe qua, beh pensate che è addirittura gratuita, vi lascerò il sito in descrizione nel quale vi scrivete semplicemente, ci sono tantissimi altri oggetti della lego fatti in inventor, divertente, vediamo questo oggetto qua, è l'auto di batman come appunto è evidente, purtroppo è troppo nera, non ci ho pensato, adesso gli diamo una colorata, ne seleziono così alcuni pezzi un po' a caso, banalmente, trasformandola in quello che magari qualcuno potrebbe odiare un'auto di tutt'altro tipo, di tutt'altro colore, ecco sono assieme piuttosto pesanti perché sono veramente singoli pezzi messi assieme con la stessa logica del lego, cioè sono incastri e vincoli esattamente come se incastraste i pezzi del lego, come solo montaste, quindi è stato veramente fatto un lavoro certosino, non so dirvi, e di questo sono un po' dubbioso, se non siano nativi proprio della lego, cioè forniti dalla lego della casa madre, perché sono veramente fatti bene, vabbè ma questo qua rimarrà un dubbio che ci porteremo dietro, ecco adesso con i due colori così vedete insomma gli oggetti dove sono messi, allora andiamo su view, cosa sono, cosa è importante quando abbiamo a che fare con oggetti piuttosto complicati, vabbè potevo anche semplicemente risaltare gli spigoli avrebbero ottenuto lo stesso risultato, vabbè insomma, quando lavoriamo su grandi SM e vogliamo entrare a vedere per esempio dentro se l'assemblaggio è fatto bene, Inventor ci fornisce questo oggetto qua che sono le sezioni, le viste di sezione, ce ne sono due o tre di soluzioni, quella che userete di più è questa qua, la sezione a metà banalmente, la mezza sezione, selezionate un piano, prendiamo questo qua e come potete vedere tenendo premuto il mouse al tasto sinistro potete muovermi allegramente all'interno della vostra sezione e dopo il tasto shift ruotare, con la rotellina premuta mi raccomando, vedete che vi fa vedere cosa succede, se premiamo ok, ora possiamo interagire quei pezzi, andiamo qua su body, non su body ma su party, era giusto prima, vedete che posso selezionare i pezzi che vedo adesso a schermo, anche quelli selezionati me li identifica singolarmente e posso fare tutto ciò che mi interessa fare, c'è anche la soluzione a un quarto e a tre quarti ma sinceramente mai usati, vi faccio vedere quella tre quarti dove come potete immaginare vi fa identificare, prendiamo questo piano qua, andiamo fino qua, andiamo avanti e adesso prendiamo un altro piano, andiamo ok, ed ecco che ha fatto, non vi sembrerà evidente ma vi garantisco che è una sezione sull'altra sezione, dovete avere un po' di immaginazione spaziale per capire cosa è stato fatto però sostanzialmente come vedete adesso ha fatto uno spigolo di quello che è la mia sezione selezionando ovviamente tutte le parti, anche la gomma dietro è stata selezionata ecco, queste viste qua fatte in sezione non influiscono assolutamente su quello che è l'assieme né nella sua tavola, e andiamo per esempio a metterla in tavola creiamo una tavola qualsiasi, beh potete anche fare le tavole, non è male di questi oggetti qua non di questa singola parte qua, torniamo in tavola vedete qua che assolutamente non ho nessun effetto su quelle che è le sezioni che ho fatto nella tavola precedente vedete che non mi si rispecchia assolutamente, sono semplicemente viste per lavorarci sopra ovviamente qua se andate qua e invece dite di rasterizzare l'immagine e ne farei una cosa anche più carina viceversa se lavoriamo su quelle che sono le proprietà visibilità e trasparenza possiamo, anzi proviamo i due filtri davanti se mettiamo trasparente questo e invece togliamo la visibilità a questo cosa accade in tavola assolutamente niente voi dite ed è vero che non succeda assolutamente niente neanche qua è successo niente ma adesso vi faccio vedere una cosa che ha dell'incredibile l'invento rimettiamo il nostro oggetto ed eccolo qua cosa vi posso dire? è un buck? è un bucko? non lo so è inspiegabile però sostanzialmente adesso rifacendo la tavola lui ha ereditato le caratteristiche di trasparenza e di visibilità non è spiegabile neanche sui forum non si capisce bene con quale logica venga fatta questa roba qua cioè non si capisce se effettivamente la trasparenza influisce sull'oggetto o se non influisca perché se dipende dal fatto che abbia già fatto la tavola oppure no capite che è un problema questa cosa qua e dovete tenerne conto praticamente cosa vi voglio dire se usate la trasparenza e la visibilità usatela solo temporaneamente e dopo disattivatela non usatela con la logica di farla in tavola perché? adesso vi spiego il giochino la considerazione a cui sono arrivato io sostanzialmente la 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 diciamo la variabile visibilità e trasparenza vengono ereditati solo nel momento in cui creo l'oggetto quindi se lo creo e l'assieme ha delle visibilità e delle trasparenze attive automaticamente in tavola si ereditano perché dopo andiamo qua per esempio selezioniamo le le parti se riesco a selezionare il vetro mi dovrebbe essere questo qua troviamolo nel browser vedete che qua attiva la trasparenza quindi io la deseleziono e automaticamente l'ho ripristinata è molto complicato invece per la soppressione perché come vedete qua la soppressione mi impedisce fisicamente di selezionare il pezzo quindi dovrei saperlo già qua dov'è ma vedete che nei assiemi complessi la cosa è di per sé impossibile da fare tenetene conto non usate la trasparenza e la visibilità con la logica di utilizzarli in tavola perché veramente mi fregano brutalmente fatto salvo alcuni casi per il quale effettivamente può tornarvi utile ma andando a lavorare sulla tavola andando a dire in tavola quello che voglio rendere trasparente facciamo così andiamo qua andiamo in ritroviamolo nel browser diciamo faccio così tolgo qua e dico no rendimelo trasparente e allora forse forse possiamo dire ha senso lavorare così ma sono casi molto particolari che dire faccio una proiezione di questo magnifico oggetto adesso vedete nero ma ecco che passa andiamo a e su quest'ultima immagine direi che questa pillola 28 che era più un gioco più che una pillola chiudo qua ragazzi mi raccomando se vi sono piaciuto se vi interessa iscrivetevi al mio canale e premete sulla campanellina per essere come mi hanno insegnato avvisati su le nuove pillole inserite ciao alla prossima ciao ciao